La fusione è ormai una realtà e da ieri 13 settembre gli addetti della centrale operativa del 118 Chieti Pescara lavorano fianco a fianco nella sede messa a disposizione della società Saga che si trova in territorio di Pescara tra l'aeroporto d'Abruzzo e l'aeroporto militare. Si concretizza così il progetto di riunire le due centrali dell'area metropolitana coprendo un bacino di utenza di 750.000 persone. A coordinare le attività sono i responsabili del 118 di Chieti Adamo Mancinelli e quello di Pescara Vincenzino Lupi. Il piano per l'accortamento è partito quattro anni fa con la firma del protocollo d'intesa tra Regione Saga e le ASL di Lanciano Vastocchietti e di Pescara. Dalla prossima settimana al via il corso per utilizzare nuovi sistemi digitali, conferma il dottor Mancinelli spiegando che ora anche per quanto concerne le soccorso saranno gli operatori di entrambe le ASL a coordinarne gli interventi. Tutte le telefonate arrivano in unica centrale e gli operatori sono dedicati allo svolgimento del soccorso, quindi sia nei codici rossi che nei codici gialli, mandare l'ambulanza più rapidamente possibile, cosa che già facciamo adesso, e portarlo nell'ospedale più giusto ma anche più vicino. Le postazioni rimarranno le stesse, anzi ci sarà sicuramente un aumento nei prossimi mesi per altre postazioni non medicalizzate chiaramente nel territorio montano. La gestione più importante è quella all'interno dell'area metropolitana, lì ci sarà una maggiore rapidità di intervento, nel senso che dovremo integrarlo, non avverrà nell'immediato, però a breve ci sarà anche un'integrazione per cui il paziente dispoltore così come quello di Francavilla che corrispondono un po' alle aree più limitrofe, limitrofe ma al tempo stesso di province diverse avranno la maggiore rapidità perché potranno andare chi a Chieti o chi a Pescara perché saremo noi poi a decidere in base al numero dei posti letto, in base alle patologie per una rapidità migliore del sistema. Per chi vive nelle aree più lontane, Vasto, Villa Santa Maria, per fare degli esempi? Saremo noi sempre a gestirlo, come prima lo gestivamo da Chieti, adesso lo gestiamo nell'area, chiaramente nella nuova centrale operativa, gli operatori sono gli stessi, hanno le capacità per fare questo, come lo facevano prima lo faremo adesso, non cambierà assolutamente nulla. Una novità riguarda l'arrivo nella sala operativa di un tecnico esperto nel soccorso in montagna, visto l'incremento degli incidenti registrati negli ultimi tempi in Abruzzo. Una cosa importantissima che dobbiamo ribadire, la regione ha voluto all'interno della centrale operativa il tecnico per la montagna, quindi una persona che a breve verrà da noi, che in certo senso è il tecnico dedicato per l'area di montagna, che conosce bene il territorio montano, che quindi aiuterà gli operatori a trovare la persona giusta, a inviarla al punto giusto, un tecnico super specializzato.